con segue rotazione andremo a impostare tutti i punti di controllo e li ruoteremo in modo tale che l'immagine sorgente segue il tracciato che abbiamo creato perché se lasciamo le cose come stanno vediamo che l'immagine sorgente rimane invariata nel caso di specie in orizzontale torniamo al primo punto e diamo segue rotazione come potete vedere l'immagine sorgente si è imposta in maniera parallela al tracciato nel caso di specie il primo punto ha un valore di meno 65 gradi se noi andiamo nel punto successivo vedrete che l'immagine sorgente segue il tracciato primo punto ricordatevi questo meno 65 adesso reimpostiamo a tutti i punti e ipotizziamo di dare un valore deciso da noi nel primo punto ipotizziamo di impostare 30 gradi quando andremo a cliccare su segue rotazione tenendo premuto il tasto shift vedrete che adesso il valore è meno 35 ovvero se andate a sommare al valore precedente il più 30 e così nei punti successivi come meno 21 andiamo all'ultimo vedete 120 rimpostiamo tutti i punti diamo seguire rotazione vedete è 90 90 90 più 30 120 ok